Quando vediamo arrivare il nuovo camion dell'azienda Sustersich, abbiamo l'impressione che alla sua guida ci sia un conducente tosto, sicuro di sé, che non ha tempo da perdere. Ecco su un camionman TGS una bellissima Gru Fassi F1650 RA. Poi, non appena scende dalla cabina del camion e vediamo con quale disinvoltura Neitz Sustersich lo stabilizza, non ci sono dubbi. Davanti a noi possiamo ammirare un professionista del sollevamento. A vederlo all'opera sembra sia una sciocchezza inserire la prolunga idraulica L816 nel braccio secondario della Gru Fassi. Neitz lavora bene, veloce e soprattutto con grande attenzione. Ora deve movimentare un grosso frantumatore situato all'interno di un capannone. Malgrado la scarsa altezza dell'ingresso del magazzino dove è situato, lui utilizza con cautela il sistema ProLink Fassi per sollevarlo e caricarlo sul camion. Senza problemi di stabilità, Neitz può terminare questo sollevamento. Il carico è a bordo, il lavoro è terminato. Ottimo lavoro, grande professionista, Gru Fantastica.